Filippo Busine, oggi verranno approvati nuovi sistemi di regolamento per la vigilanza della Banca d'Italia a livello europeo, che cosa ne pensa la Lega Nord? Intanto contestiamo il fatto che arriviamo sempre tardi a dare nuovi strumenti e nuovi poteri alla Banca Centrale Europea, servirebbe una maggiore integrazione in questo senso. Ma al di là di questo, l'Europa come sempre risponde con nuovi regolamenti, ormai lo conosciamo con il modo di operare. Noi non abbiamo bisogno di nuovi regolamenti che sono per loro natura rigidi e quindi non adatti ad affrontare le situazioni soprattutto emergenziali. Abbiamo bisogno di dare vero potere alla Banca Centrale Europea, come ce l'ha la Fed negli Stati Uniti, come ce l'ha la Banca Centrale Giapponese, per fare quelle azioni di rilancio e di stimolo all'economia, che attualmente non può fare perché effettivamente la chiamiamo Banca Centrale Europea, ma non è altro che un ente garante della stabilità dei prezzi e nulla più. Con questo regolamento che approviamo anche oggi si fa un piccolo passo in quella direzione, ma assolutamente insufficiente, tardivo e sostanzialmente inutile.